V-ve-velocità di fuga? Forse intendeva speedrun, ma... Dai, altra sequenza scriptata, dai! Spazio! Ultima frontiera! Posso muovere il mouse? Mio Dio! Le texture! Dio Cristo! Yeah, guarda land! Side boobs! Io starei guardando di qua, comunque! Come no? Che cosa sono queste cose? Che colpo! Stavo guardando altrove! Oh, il primo livello è di Abe! Mi chiedo se posso saltare il... il filmato, non credo! Sì! 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 No! Voi! No! Voi, vieni! 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 Sì, vabbè, dai! Vieni! Cristolo! Sì! Vieni! Vieni! Oh no! Oh! Kimpistarts! Bene bene! Abbassati! Cosa è questo? Crepe piccoli Ehi bro Ehi man, sei ok? Sì, credo non This way, this way Ah, ok Beh praticamente cos'è questo Bray? E' un vecchio FPS stile al fly Fa la fine E quello nuovo non ha nulla a che vedere Con questo Cominciare dal fatto che qua si muore facile E la strada I livelli sono disegnati in modo che Il percorso sia uno solo ma che sia Ha fatto in modo che tu debba sapere dove Cioè capire dove entrare Questo è un portale Se faccio così Mi spunto di qua Ma se faccio così Cambio livello Oh Furbo Anche saltando non so metto la velocità Cosa è questo posto? Oh Tutte mutande sono Ti rendi qui Wow Ok Jurassic Park ho capito Questo è impossibile Uncchia Newton qua Ho ancora una ritmo Jen E il nonno Non lo so Non lo so Non lo so Sono già stato qui Così Ah C'è il trucco Ok Uno Due Tre E' qua. Au, au, au! Le madonne che ti tiro. Mi conviene salvare qua, eh? Salvo. Ah, quick save. Sempre d'aiuto nei vecchi giochi. Oh! Wow. Wow. Oh, una signorina. Ciao. Curiosità. Hai votato Trump o Clinton? Clinton, eh? Perché è una donna, magari? Beh. Hai sbagliato. Quelli sono velenosi. Oh, nonno. Oh, fighetta. Sì, sì, sì. Grandfather. Oh, mio Dio. Tommi, tu devi andare. Guarda, ho provato di stoppare questa cosa. Vai, ora. Ti avvicino. In la terra degli antici. Wow. Te non ti rassegni facilmente? Oh, mio Dio. No! No! Vai, sarebbe rimasto qualcosa del non... No. Oh. Si è stato puntuale, eh, stronzo. Che trolloni questi autori. È un'altra cosa che mi sa spento. Rite. No. Ciao, ciao. Grazie.